Allora ciao a tutti questa è la sveglia numero 9 e oggi dopo due anni dall'ultima sveglia semplicemente vi faccio vedere un elemento asemico fatto oggi ma non è questo quello di cui voglio parlarvi in realtà non voglio parlarvi io ma faccio parlare il libro esattamente quale libro Zaffarano 3 movimenti Anastasi uscito per TIC edizioni da non molto e da questo libro che come vedete è scritto con caratteri piuttosto grandi leggo soltanto esclusivamente la prima pagina primo movimento va bene adesso prendiamo e cominciamo a pensare adesso ci mettiamo a riflettere sul fatto che ci stiamo raccogliendo tutti tutti quanti noi che siamo qui noi che qui ci siamo incontrati e qui ci siamo raccolti noi che cominciamo a raccoglierci qui e allora infatti raccogliamoci allora visto che veniamo qui per raccoglierci e che ci stiamo stiamo raccogliendo per partire ci stiamo per mettere in movimento adesso ci stiamo infatti per muovere e ci stiamo per mettere tutti quanti in movimento tutti quanti noi non noi soltanto anche gli altri che sono diversi da noi ma che come noi si